Tutti si stanno portando verso la classifica provvitoria di Coppa Romodo ad un solo grande prestazione per lui numero 28, poi con il numero 19 per il 30 team Thomas Martini poi abbiamo con il numero 20 Alessandro Poladonte il percorso... Il percorso... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.